Andando alla giornata del 25 novembre, perché hai in mente una giornata speciale quel giorno alla Camera? Sì, quella è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e quest'anno appunto volevo fare una cosa diversa, cioè volevo aprire l'aula di Montecitorio alle donne a tutte le donne che hanno un'esperienza in ambito di violenza, sia le vittime ma anche le madri delle ragazze uccise anche chi gestisce i centri antiviolenza, anche le procuratrici che nei tribunali si occupano di questo le forze dell'ordine, le donne che si occupano di questo tema, in modo da avere una giornata di ascolto cioè il Parlamento si mette in ascolto delle donne. Dopo quella sequenza terribile di femminicidi, di stupri io ho rivolto anche un appello alle forze politiche dicendo di metterci insieme tutti di fare un provvedimento che possa rendere più efficaci le protezioni, le misure di protezione per le donne minacciate e che rendano anche più efficaci le misure interdittive degli uomini violenti perché quello che succede oggi è che le leggi ci sono, poi però o non vengono applicate o vengono applicate in modo discrezionale e di fatto si sottovaluta spesso il pericolo, quindi donne che hanno denunciato poi vengono ammazzate e la risposta che ho avuto è stata principalmente da donne deputate, dalle donne esponenti politiche e anche donne di diverse forze politiche, ma io dico la violenza sulle donne non è un problema degli uomini, degli uomini violenti non sono loro a avere il problema, le donne la subiscono, subiscono il problema che è degli uomini perché gli uomini non sono parte attiva quando si tratta di voler trovare dei rimedi a questa violenza perché non se ne fanno carico loro, perché non intervengono loro, perché delegano sempre alle donne la dichiarazione, l'impegno ma non è un problema degli uomini essere violenti, allora io vorrei vedere più uomini schierati su questo tema Grazie Grazie